Ciao ragazzi, mi ritrovo qui nella palestra di Alessandro Conti di MM Circus Oggi farò un mega allenamentone con uno degli atleti più forti conosciuti a livello mondiale Andrea La Rosa Ciao, grande Andrea, tutto a posto? Tutto a posto, tu? Tutto a posto? Viene, viene, dai Oggi spacchiamo, facciamo un po' di statica, un po' di skills, un po' di compito Sì, sì, come ti senti? In forma? Qualche doloretto c'è sempre E guarda tutti Anche contrattura, eh, ma credo Sì, anch'io, non esiste un atleta che si sente completamente in forma Proviamo, facciamo Allora, grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.